Si è conclusa senza esclusioni di colpi di scena la sedicesima edizione del trofeo Kinder Trophy al Country Sport, la carmesse di tennis dedicata agli under 13 e 16 maschili e 14 e 16 femminili, che vedrà poi i vincitori impegnati nel mese di agosto al Master Nazionale di Roma. A salire sul gradino più alto del podio sono state per il gentil sesso, per la categoria under 14 la Giovagnoli che ha battuto la Luisa, mentre per l'under 16 la Sacco che ha piegato l'atleta Irpina Frusciante. Per i maschietti hanno alzato la Coppa al cielo, Coppola per gli under 13 che ha battuto Scalzo, per gli under 14 Trigiano che ha superato Ferrone ed infine Di Giacomo per gli under 16 che ha avuto la meglio su Verdino. Consegnato anche il premio free play che se lo ha giudicato Giancarlo Palatella. Neanche il tempo di sistemare i campi perché adesso in programma dal 27 marzo c'è la prossima tappa del circuito Kinder, dedicato per gli under 9, 10, 11 e 12. Gli incontri inizieranno il prossimo 27 marzo sempre al Country Sport di Avellino. Grazie. Grazie a tutti.